Dovevo allattare il mio bambino, vedete siamo qua, sono in località Col dell'Is, questo è il rifugio a cui ho chiesto per favore di farmi sedere al caldo per allattare il mio bambino, si chiama rifugio Col del Re. Se per caso passate di qua, fategli la merda sul pavimento, perché mi ha detto che senza il green cat se io non posso entrare, non posso neanche allattare il mio bambino al caldo. Quindi sapete che c'è? Che chi ancora aveva qualche dubbio sul fatto che non siamo in una discriminazione allucinante, che non stiamo ripetendo un olocausto, questa è una delle prove. Mi dispiace solo che non ho registrato la conversazione, ma andavo un po' di fretta perché piangeva il bambino, non ci ho pensato. Molto bene, adesso dovrò allattarlo in macchina, al freddo. Siete ancora convinti? Siete ancora convinti? Che sia per il bene del prossimo? Sapete che vi dico? A tutti quelli che hanno ancora fede in questo governo di mafiosi bastardi, che se li vedessi davanti li mettere tutti sotto, ho un messaggio per voi. Andate a fanculo, va bene? Va bene? E a tutti gli altri non venite in questo posto qua. In questo posto e in tutti gli altri posti che mi fanno stare fuori come neanche i cani. Grazie a te!